Bentornati, allora oggi vediamo il quarto dei cinque video che ho dedicato alle cinque colonne sonore che sono in nomination gli Oscar 2024. Prima di addentrarci vi ricordo che sul community tab del canale potete, anzi dovete, votare. Ci sono due sondaggi, uno su qual è la vostra colonna sonora preferita delle cinque e il secondo sondaggio invece vi chiede quale secondo voi vincerà, perché non è detto ovviamente che le due cose coincidano. Votate, c'è tempo fino al 10 di marzo, qualche ora prima della notte degli Oscar pubblicherò un video con le vostre pagelle, come dire, i vostri risultati e la mia previsione sul vincitore. Torniamo quindi a Killers of the Flower Moon, dopo Oppenheimer, dopo il quinto capitolo di Indiana Jones e dopo Povera Creature oggi affrontiamo l'ultima fatica di Martin Scorsese che io ho guardato con molto piacere, molto interesse, perché Scorsese è uno dei miei registi preferiti, Di Caprio è uno dei miei attori preferiti, De Niro è uno dei miei attori preferiti, quindi insomma mi sembravano già svariate e ottime ragioni per guardarlo. È un bel film sicuramente che vi consiglio di rivedere, anche se è un film un po' old style, nel senso è un film per cinefili, è un film molto ben girato, molto ben raccontato, però a mio parere nel gusto di oggi, nel gusto del cinema di oggi è un film un po' lento e anche un po' lungo, non tanto per le tre ore, quasi tre ore e mezzo di durata perché ci sono tanti altri film che durano altrettanto e a cui non togliere un fotogramma mi viene in mente, non so, c'erano altri in America, ma anche la penultima fatica di Scorsese, di Irishman, dura tre ore e mezzo e francamente non le senti. Su questa produzione invece un po' le ho sentite, ecco perché credo che sia un film bello sicuramente, chi ama il cinema con la C maiuscola deve assolutamente vederlo, però credo che sia un film appunto che incontri poco il gusto di oggi. E ovviamente cosa contribuisce in maniera determinante sul ritmo di un film? La recitazione, sì, il modo in cui è girato, sì, il montaggio tantissimo, ma anche ovviamente la colonna sonora. E visto che il focus del video non è tanto sul film, perché di recensione sul film ne troverete tantissime e sicuramente anche più accurate e meglio fatte della mia, il focus è naturalmente invece sulla colonna sonora. La colonna sonora è scritta da Robbie Robertson, che ha collaborato tante volte con Scorsese in tanti sui film e a cui in questo film è affidata praticamente l'intera colonna sonora. Allora, io credo che questa colonna sonora abbia pochissime chance di vittoria dell'Oscar. Credo però che se dovesse succedere, perché tutto è possibile nella vita naturalmente, la ragione sia principalmente legata al fatto che Robertson è scomparso poco dopo aver finito questo film, lo scorso agosto, 9 di agosto se non ricordo male, e quindi potrebbe come dire esserci diciamo un effetto nostalgia, un effetto sentimentale legato a questa colonna sonora, che però, detto tra noi, non è una colonna sonora che si faccia ascoltare. Come sempre faccio quando vado a vedere un film, ascolto prima la colonna sonora, poi la vedo come montata sul film e poi me la riascolto. Questa colonna sonora è giusta per questo film. Innanzitutto Robertson aveva ormai il background giusto per questo tipo di musica, perché essendo basato sulla musica folk americana, su un certo tipo di jazz degli anni, dei primi anni, e su un certo tipo di musica folk, tipicamente americana, e in particolare legata ai nativi americani. Oltretutto Robertson, la mamma di Robertson, era una nativa americana, quindi come dire, lui ce l'aveva in famiglia, ecco, questa vena, diciamo così, questa vena stilistica, e non per niente poi con il suo gruppo The Band faranno diversi album, diverse produzioni su questo genere di musica, che appunto mischia, se vogliamo, la musica folkloristica americana, o meglio, dei nativi americani, con la musica folk americana, nel senso più anglosassone. Ma detto questo, la colonna sonora è molto lenta, la colonna sonora è molto lenta, e ascoltarla, per il piacere di ascoltarla, è una piccola impresa. Mi è successo, come mi capita spesso, quando ascolto colonne sonore, magari, eccessivamente elettroniche, eccessivamente basate su dei droni, o su un qualcosa di ripetitivo, qui non c'è niente elettroniche, questa colonna sonora è tutta assolutamente gustica, a parte, insomma, qualcosa qua è lama, veramente piccolissime cose, però l'effetto è lo stesso, cioè l'effetto è di una perenne cantilena, di una perenne litania, in un certo senso, che certamente ricorda e riporta perfettamente al mondo dei nativi americani, con l'utilizzo anche di molti strumenti a percussione tipici della loro musica e della loro cultura. Però detto questo, ribadisco, non è certo la colonna sonora che si faccia ascoltare, e che, come ho detto in apertura di video, soprattutto contribuisce a una certa lentezza del film, soprattutto nella prima ora e mezza, perché il film è lungo, dura quasi tre ore e mezzo, e nella prima ora e mezzo c'è proprio, come dire, è chiaro che Scorsese, come dire, nella prima ora e mezzo, setta i personaggi, ci presenta i personaggi che poi nella seconda parte del film, diciamo, nel secondo e terzo o terzo del film, poi insomma hanno in realtà uno sviluppo anche più movimentato, come dovrebbe essere richiesto dal cinema di oggi, che non è certo un tipo di... come dal pubblico di oggi forse che dal cinema, che non è certo un tipo di pubblico molto contemplativo, non è certo un tipo di pubblico che ami virtuosismi fini a se stessi, e non è certo un tipo di pubblico che ami una certa declamazione e un basso ritmo di montaggio, perché oggi invece al contrario si richiedono cose veloci e molto performanti, diciamo così. Scorsese, dall'alto del fatto che Scorsese si è permesso il lusso di fare un film come voleva lui, e quindi insomma giustamente se lo può permettere, e ribadisco, il film è bello, proprio è esteticamente bello, però credo che in tanti concorderanno che per il gusto di oggi probabilmente qualcosa poteva essere sforbiciato. Devo dire che quello che mi ha stupito di più è proprio il fatto di una evidentemente ricercata, evidentemente voluta mancanza, non voglio dire di un tema portante, perché non è che per forza se non c'è un tema non ci possa essere una colonna sonora di valore, però non c'è un climax e non c'è palesemente, e quindi volutamente la scelta di un qualcosa di in qualche maniera ricordabile. E considerato che Robertson, oltre ad aver collaborato a tanti film scorsese, è stato anche un songwriter e anche di un certo successo, ricordo solo The Night They Draw a Valdixie Down, tra le tante canzoni che ha scritto, un songwriter, dicevo, ha ovviamente in sé una capacità comunicativa che sa, come dire, concentrare nell'ambito di una canzone, quindi nell'ambito di due, tre minuti, quella che è la durata media di una canzone, per cui se questa ricerca di comunicatività, non voglio dire immediata, non voglio dire spicciola, ma efficace, non è stata fatta da parte di un songwriter, è evidentemente una scelta voluta. Cioè, nel senso, se si fosse affidata la colonna sonora a un compositore e basta, non a un songwriter, a un compositore, diciamo, di musica strumentale o folk o di altro tipo, ma non necessariamente un songwriter, probabilmente sarebbe stato più normale questo tappeto che accompagna tutto il film senza qualcosa che veramente ci resti nelle orecchie. Invece, visto che è stata fatta la parte appunto di un songwriter e anche di un certo successo, evidentemente è stata una scelta voluta. Scelta voluta che però, francamente, io non condivido, o quantomeno non condivido in toto, solo poi lungi da me criticare un maestro come Scorsese al quale dobbiamo tanti e tanti capolavori. Vi ricordo, tra l'altro, se non l'avete visto, andate a vedere la puntata del colonne d'Ercole che parlava di Gangs of New York, sempre con Di Caprio e della sua crona sonora, naturalmente. Vi lascio il link alla fine. Quindi, dicevo, lungi da me criticare un maestro come Scorsese. Mi spiace ovviamente, umanamente, per la scomparsa di Robbie Robertson, però, personalmente, io non ritengo questa colonna sonora particolarmente riuscita. Secondo me si poteva trovare un ragionevole compromesso tra questo perenne tappeto, questo perenne sottofondo che accompagna buona parte del film e un qualcosa di più empatico, un qualcosa di più emotivo. La colonna sonora, quindi, non credo che avrà grandi chance di vittorie. Il film potrebbe averne, potrebbe averne, dipenderà molto se la maggior parte dei giurati vorrà fare una scelta conservativa legata a un cinema un po' del passato oppure premiare una scelta di un cinema più attuale come può essere quello di Oppenheimer, di Nolan, di cui ho fatto appunto la recensione qualche tempo fa e della colonna sonora relativa, naturalmente, di Ludwig Goransson. Bene, ci vediamo tra qualche giorno per l'ultima colonna sonora rimasta, American Fiction e poi appuntamento al 10 di marzo con le vostre pagelle, mi raccomando, continuate a votare e con la mia previsione di chi vincerà la colonna sonora. Vediamo se ci prenderò. Ci vediamo alla prossima.